Signora Carmen, qual è la situazione? La situazione in casa nostra è drammatica. Avendo due figli disoccupati non ce la facciamo con le spese. Le bollette sono triplicate e noi non ce la facciamo. Anche perché viviamo con la pensione di mio marito. È solo una delle tante storie raccolte da Alberto Corraro a Di Consum. Questa famiglia di Montesilvano, composta da quattro persone, non riesce a pagare le bollette. Non può permettersi nemmeno un dentista. La signora Carmen ha paura quando suona il citofono per le bollette che si accumulano, nonostante si cerchi di pagare in tempo. Sono sempre nervosa perché mi agito e dico come faccio questo mese? Voi siete rimasti anche senza luce, ve l'hanno staccata. E due sere con le candele. Avete risolto la situazione proprio grazie a Corraro. Sì, grazie al dottor Corraro abbiamo risolto. Altrimenti erano dieci giorni al buio. Una famiglia di quattro persone e siamo due persone anziane in casa, senza lavatrice, senza niente. Come riuscite a vivere giorno per giorno? Riusciamo a vivere perché io sono una persona che sa risparmiare. Antonio, ci si mette pure la sfortuna perché tu avresti dovuto iniziare a lavorare, però poi avuto problemi di schiena, di verte. Esatto, avrei dovuto iniziare a lavorare 15 giorni dopo l'infortunio e quindi purtroppo siamo rimasti anche senza questa entrata. Altrimenti li avrei aiutato io e i miei genitori. Paradossalmente abbiamo provato a chiedere il rendito di cittadinanza, io e mio fratello, però per lo Stato siamo ricchi. Ci hanno detto che l'Isa è troppo alto, però non riusciamo ad arrivare a fine mese. Mi devono spiegare come è possibile questa cosa. Tu mi hai detto prima che per noi è difficile e impossibile andare anche dal dentistico. Certo, perché le spese ordinarie bene o male si affrontano, ma le spese straordinarie sono impossibili da affrontare. Nella sua associazione quante storie come queste li hanno raccontato? Abbiamo chiuso la sede nel mese di agosto per una decina di giorni e abbiamo ripreso quindi dagli inizi di settembre. Siamo oggi al 24, sono 24 giorni di telefonate, incontri, appuntamenti per parlare di bollette. Non so, una tassa di scopo. Se non si riesce nell'immediato, ma davvero nell'immediato, a porre un freno, le famiglie, ma anche altre categorie, non potranno più, appunto, rimarranno come è successo in questa storia triste, senza luce, senza gas. Noi avremo i prossimi mesi persone, famiglie intere che non potranno più accendere i riscaldamenti perché non ci sarà proprio il gas.